Vi domando, vi domando, se ritenete normale, al di là delle urla di qualche 5 Stelle nervoso, che mentre il Senato e la Camera stanno lavorando, il Presidente del Consiglio si faccia gli attoressori in televisione! Non è accettabile, non è normale, è un insulto a milioni di famiglie, a milioni di lavoratori! Il Presidente Salvini si metta la mascherina! Io mi metto la mascherina! Voi vi dovreste mettere la maschera per vergognarvi di coprire una situazione surroale!